Il problema cirrosi epatica in Campania è un problema particolarmente sentito. Si registrano ogni anno in Campania 1.800 decessi per cirrosi epatica e patocarcinoma. Il flusso SDO degli anni 2012-2015 ha registrato 21.500 ricoveri per cirrosi epatica. Per intercettare questa piaga, per migliorare l'accesso alle cure, per favorire la gestione da parte delle famiglie e dei pazienti, per migliorare la compliance ai trattamenti, si è pensato ad un'integrazione ospedale-territorio che in Campania sta dando i primi risultati. Un sodalizio tra istituzioni e medici specialisti ha consentito al momento in Campania un accesso alle cure per epatite C attraverso i farmaci antivirali diretti, estremamente efficaci, dei risultati straordinari. Siamo la prima regione in Italia in quanto a trattamenti avviati in proporzione alla popolazione residente. Questa è la prima effetto della prevenzione che intendiamo attuare per migliorare i percorsi di cura. In Campania dei 21.500 ricoveri per epatocarcinoma, la stragrande maggioranza è per encefalopatia portosistemica, un problema che coinvolge il 40% dei pazienti con cirrosi epatica e per questo si è pensato nuovamente a un modello di integrazione ospedale-territorio attraverso le aggregazioni territoriali funzionali. Formare il territorio, formare i medici di medicina generale, quindi non specialisti, formare le famiglie, formare il caregiver, una figura che fino a questo momento non ha avuto consapevolezza del proprio ruolo. Dare degli strumenti per intercettare i problemi che precedono l'ospedalizzazione è un momento fondamentale ed è su questo che in Campania stiamo lavorando. Dare degli strumenti per intercettare i problemi che precedono l'ospedale